28.000 kg di portata utile, 51.400 kg di peso totale a carico, come si fa a portare a spasso un carico di questo tipo? Il tutto è abbastanza semplice, Dosan si è affidata a ZF con la trasmissione 8 EP320 che ha 8 marce. La velocità massima non è da poco, abbiamo 55 km orari a carico. Questo significa che occorre una grande efficienza dal punto di vista della trasmissione, infatti il cambio automatico ZF dotato di convertitore di coppia è lock up automatico su tutte le marce. Cosa significa questo? Che quando ho raggiunto una velocità stabile il convertitore di coppia smette di funzionare e c'è un innesto immediato tra motore e trasmissione. Questo aiuta ad abbassare i consumi, ad avere un comfort di guida superiore e ad avere una maggiore reattività del mezzo.